E' tornata dalla Francia la delegazione della scuola secondaria di primo grado Andrea Disernia dopo la prima delle cosiddette mobilità transnazionali pianificate nell'ambito del progetto Erasmus Plus KA2 All Together Learning at School. La delegazione era formata da due professoresse dell'istituto che sono andate a far visita ai partner francesi del Collège Gosselm-Fédit-Auserche nei pressi di Limoges Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente dell'istituto Mariella Di Sanza per le varie attività svolte ma più ancora per l'incontro con le altre delegazioni provenienti da Portogallo, Spagna, Polonia e Turchia L'attuazione del progetto ora prosegue con la produzione di materiale linguistico da parte degli alunni, videoconferenze e altre attività La prossima mobilità vedrà le delegazioni di Italia, Francia, Portogallo, Spagna e Turchia ospiti della Zespol Skol Tekniznisch di Lipno in Polonia nel mese di marzo 2017